L'Australia ha annullato il riconoscimento di Gerusalemme Ovest come capitale di Israele da parte del precedente governo, ad annunciarlo la ministra degli esteri australiana Penny Wong, aggiungendo che il governo a guida laborista ha accettato di riconoscere nuovamente Tel Aviv come capitale. Wong ha ribadito che lo status di Gerusalemme deve essere risolto nei negoziati di pace tra Israele e i palestinesi.